Ciao ragazzi, oggi vi farò ascoltare alcune telefonate di emergenza particolari ed inquietanti, raccontandovi anche le vicende legate ad esse. La maggior parte di queste chiamate, se non tutte, vi faranno finire i brividi. Iniziamo subito. Il 6 ottobre 2012, l'allora diciassettenne Jake Evans effettua una telefonata al 911 e con una calma disarmante racconta l'operatrice di aver ucciso sua madre e sua sorella. Questa è la telefonata sottotitolata in italiano. È stato solo un po' con la città inica. È l'unico motivo di essere molto angliati a sua madre e sua sorella? Io non ho, non è. È vero. Io non ho veramente ancora ancora angliati, Dopo la telefonata, Jake è stato arrestato per aver ucciso sua madre Jamie Evans di 48 anni e sua sorella, Mallory Evans, di 15. Dopo alcune analisi, il ragazzo è stato dichiarato sano mentalmente. Nessun disturbo psicologico, solo profondo odio verso il genere umano. Per questo venne condannato a 45 anni di reclusione. 2 maggio 2012, Arizona Alle 13.08, Lisa Mederos telefona al 911 per chiedere l'intervento della polizia a casa sua. Afferma che il suo fidanzato sta dando di matto e la telefonata viene interrotta da uno sparo e delle urla. Il Polizia, questa è Denise, posso te aiutare? Ho bisogno di un ufficio polizia per arrivare a 530 West Tumblewee Road. Qual è l'adressa? 530 West Tumblewee Road. Ok, cosa vuoi bisogno di assistenza con, signor? Domestica violenza, è venuto in la casa e ha riuscito il garage door. E chi è? Il suo figlio? Il suo figlio. Due minuti dopo la prima telefonata, ne viene effettuata una seconda. Stavolta è la figlia di Lisa a chiamare, Brittany. Stavolta è l'adressa a 530 West Tumblewee Road. Gilbert, Ayrton, 85233. 530 West Tumblewee in Gilbert. What's going on there? There was gunshots, and my mom, and my niece, and my sister were all on the floor, and I think they're dead. It was my mom's boyfriend, JT Reddy. They were fighting, they were screaming, I was in my room, and now they're all dead. Ok, where did you hear the gunshots? I heard it coming from outside. The front doors open, they're all laying on the floor, there's blood. Ok, who's been shot, do you know? My mom, my sister, and my niece. Ok, we had officers on the way. Ok, thank you. La 19enne Brittany trova la madre, la sorella Amber e la nipote Lily senza vita in una pozza di sangue. Quando la polizia arrivò sul posto, trovò anche il corpo senza vita di Jim, fidanzato di Amber e padre di Lily. Il colpevole della strage è Jason Todd Reddy, che si è suicidato con un colpo di pistola dopo aver tentato di fuggire. La mattina del 26 dicembre 1996, Betsy Ramsey chiamò il 911 denunciando la scomparsa della sua bambina, John Bennett, di soli sei anni. La piccola era una modella e pluripremiata reginetta di bellezza. Cosa c'entra? Forse dopo lo capirete. 911 emergency. No, we need him. Police. What's going on? By 515th Street. What's going on there, ma'am? We're kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There we have a, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was this? I don't know, I just found the note. Oh, my God, is it saying the checker? What? Is it saying the checker? I don't know, it's, there's a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you that? Cassie Ramsey, I'm the lover. Oh, my God. Please. Okay, I'm sending her not to throw her, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got up and she's not here. Oh, my God, please. Okay, girl. I am, honey. Please. Take a deep breath, okay? Please, hurry, hurry. Pathy? 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 Il caso di John Bennett inizia come sequestro e si evolve in poche ore in omicidio, quando la piccola viene trovata cadavere nel seminterrato della villetta della famiglia. Il suo cranio era stato sfondato e il corpo presentava segni di strangolamento sul collo. Inoltre, l'autopsia rileva segni di abusi sessuali cronici. Solo recentemente, un pedofilo di nome Gary Olivia, già detenuto per un'altra condanna di abusi su minori, ha dichiarato di essere il colpevole del caso. La sua confessione è avvenuta tramite alcune lettere inviate a un vecchio compagno di scuola, Michael Vail. In una di queste, l'uomo scrisse. Non ho mai amato nessuno come John Bennett, eppure l'ho lasciata morire. È stato un incidente, per favore, credimi. Non era come gli altri bambini. Pare che il pedofilo fosse talmente accecato da questo amore malsano da uccidere la piccola ed inscenare il suo rapimento. 2011, Colorado. Teresa Middleton è in casa con suo figlio, quando uno sconosciuto si ferma davanti alla porta di casa e pretende di entrare. Do you want jewelry? La polizia riesce a raggiungere... Il soccorso irrompono nuovamente in casa per cercarla. Il soccorso irrompono nuovamente in casa. 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 Do you know who they are? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti